Musica E bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale Io sono Bruno E io sono Asimane Oggi siamo qui per il nostro primo vlog Sul quello Che vi porteremo in futuro Stavamo pensando io e il mio collega qua Di portare una Chubby Bunny Challenge Stavamo pensando anche di portarvi delle Crossbar Challenge Insieme ad altri ospiti E portare anche Non lo so Tipo dei vlog in piscina Che ci andremo Io domani infatti andrei in piscina con un'altra mia amica E forse mi portarò un plank Giusto E Invece lui domani andrà al Mars Poi ci organizzeremo per andare in piscina insieme Sì 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 La Crossbar Challenge potremmo portarvela già a partire da Fra tre giorni Sì E invece la Chubby Bunny potremmo portarvela anche oggi Anche oggi fra un po' di vlog E perché dobbiamo solo andare a comprare il Marcevello E poi ci possiamo riorganizzare a casa sua o a casa mia a fare questa sfida Sarebbe meglio a casa sua perché non è da sola Perché c'è la mia mamma Mi porteremo tante cose Clash of Clans Clash of Clans Giusto Però fino a un certo limite di tempo 25 agosto Perché io dopo partirò per andare a Modena Perché io non abito qui in Calabria Vabbè ma poi ci possiamo anche sentire Sì Ci possiamo sentire E Vi porteremo dei video insieme Verso stanotte Stanotte porteremo un altro video Cioè faremo un video di Clash Royale E poi domani lo caricheremo E stavo pensando anche di portare stanotte sempre Di registrare Clash of Clans Lui col suo profilo con Mobizen E io col mio profilo Sulla base del costruttore Perché io Ma No Mi sono dimenticato di dirti Ma io il profilo di Clash of Clans sono perso E ma Non so Vi potremmo portare anche Una nuova serie dall'inizio potremmo portarvelo Sì Sul suo telefono Visto che lui non ha il profilo Perché è un coglione Eh Non lo ha più Io ce l'ho ma non ci gioco Sul villaggio normale E gioco solo sulla base del costruttore Perché mi piace molto di più Perché devo dire che gli aggiornamenti sono stati abbastanza buoni E E quindi Potremmo portare anche un gesto opening Tipo Sì Perché io ho il paure Un ball magico Tipo Puoi fare un ball magico Tre ball in oro Corona O magia clan Giusto E qualche cosa intorno a me Giusto E Diteci se volete che Facciamo Forse vi porteremo la Giabbi Banni Tutte le challenge che volete che faremo E le faremo Crossbar challenge Giabbi Banni Crossbar challenge Giabbi Banni Assicurate E poi ce lo direte voi Quindi Quindi Per questo video è tutto Bella Bella Ciao